Il titolo di questo messaggio è così, la chiesa che è vicino alla porta che parla riguardo al tempo tempo la chiesa vicino alla porta io ho visto la chiesa entrare quindi la chiesa alla porta ma ascoltate ora il signore sta dicendo che quando accadrà questo evento c'è un'istruzione al pulpito c'è un'istruzione per i pastori è per questo che questa città è una città benedetta il signore sta togliendo la maledizione il signore sta togliendo la maledizione da questa città perché? perché? perché i pastori maggiori sono seduti qui i pastori principali sono seduti qui sono seduti qui perché sta dicendo beati sono con loro che sono stati invitati ad entrare io so che egli toglierà il veleno perché io ho visto il veleno che è stato tolto ma ora guardate la benedizione più grande che i pastori maggiori i pastori principali seduti qui per ricevere questo invito per entrare quello è la benedizione eterna quindi sta dicendo che quando accadrà questo evento c'è una responsabilità per il pulpito responsabilità anche per i cristiani perché io ho visto quella vesta io ho visto quella vesta dice lino fino bright and clean resplendente e puro fu dato alla chiesa per indossare lino fino in spagnolo dicono lino finissimo in spagnolo dicono lino finissimo ascoltate ora lino finissimo fu dato alla chiesa per indossare e poi dice quel lino fino è la giustizia della chiesa seguitemi ora su questo questo è così importante questo è il segreto per entrare per entrare dice che lino fino è la giustizia della chiesa questo vuol dire senza la giustizia lei è nuda e senza una vesta seguitemi su questo seguitemi su questo ora piano piano riuscite a comprendere perché sono venuto sta dicendo che quella vesta che io ho visto che stavano indossando mentre stavano entrando si chiama giustizia ma a che ora a che ora fa il signore annunciando la giustizia se guardiamo la chiesa di Cristo in Italia ora se si guarda la chiesa di Cristo in Italia ora la cosa che a lei manca la cosa che a lei manca davvero è la giustizia è per questo motivo che io sono venuto è per questo che quando il microfono non mi stava dando una mano ero paziente perché questa è la cosa più importante molto molto critica questo è la deliberazione riguardo all'eternità della chiesa deliberazione deliberare riguardo la chiesa per eternità questo è la conversazione riguardo l'eternità della chiesa beati siete voi che siete seduti qui per ascoltare queste parole perché sta dicendo lino fino fu dato a lei per indossare e entrare e poi dice ma quel lino fino è la santità della chiesa è la santità della chiesa la santità della chiesa la santità della chiesa ma se guardiamo a che ora se guardiamo la chiesa di Cristo in Europa la chiesa di Cristo in Italia la chiesa di Cristo in Taranto ciò che a lei manca tanto è la santità avete compreso? e per questo il Signore mi ha mandato di avere questa conversazione con la chiesa e ascoltatemi popolo amato io vi amo davvero tanto con l'amore di Cristo ma ascoltatemi questa santità qui è davvero critica è la chiave per il risveglio è un risveglio la santità quindi se vedete il risveglio in Kenya il pastore qui è venuto e anche mio figlio qui è venuto in Kenya e hanno visto i paralizzi alzarsi e camminare sei venuto in Kenya sei venuto in Kenya anche te? sei venuto in Kenya? sei venuto in Kenya? ancora non verrai grazie mille ma ascoltatemi quando si vede la nuvole di Dio scendere nuve di Dio scende quando la nuvole di Dio scende quando vedi questo la chiave è la santità gloria a Dio la chiave è giustizia quando io ho parlato in Kenya prima del risveglio tutti questi messaggi si trovano su YouTube su internet si senti me dire ravedetevi 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 Kenya perché il risveglio sta per arrivare il messia sta per tornare ravedetevi e abbandonati i peccati quindi sta dicendo 15 gennaio 2017 questo anno questo è una cosa davvero calda che è sceso giù dal trono di Dio davvero caldo dice lui mi ha mostrato la chiesa entrare ma ciò che stava indossando è la giustizia e poi il signore mi ha mandato in Italia questo vuol dire il signore sta dicendo al pulpito in Italia che l'ora per la giustizia è ora 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 sta dicendo che è la responsabilità del pastore la responsabilità del pastore la responsabilità del pastore è di guidare l'Italia nella giustizia ah did you hear me properly avete sentito have you heard me properly mi avete sentito molto bene sto dicendo la responsabilità del pulpito la responsabilità degli evangelisti la responsabilità dei maestri la responsabilità del pastore la responsabilità del pastore e la responsabilità del servo è di guidare l'Italia nella giustizia ora ora proprio ora ascoltatemi questo è così potente perché ciò che la chiesa manca davvero tanto ora fatale è la giustizia questo vuol dire il Signore mi ha mandato qui per annunciare il risveglio della giustizia il risveglio della santità il risveglio del ravvedimento così la chiesa possa ravvedersi e dopo che la chiesa si è ravveduta allora il Signore il Signore utilizzerà la sua chiesa lino fino fino lino dice lino fino bright and clean risplendente e puro fu dato alla chiesa per indossare posso andare un altro passo avanti? siete pronti? ascoltate ora sta dicendo che l'annuncio su questo lino fino l'ora per lino fino sta succedendo quando Lui mi ha mostrato il ritorno del Messia punto numero due sta dicendo che questo annuncio su la vesta si può ugualiare alla preparazione essere pronti essere pronti la preparazione la preparazione sta dicendo quando Lui ha annunciato l'ora per la giustizia l'ora per lino fino dice quel processo si può ugualiare paragonarlo a preparazione per il ritorno del Messia quindi ora è lì che prepariamo la strada in Italia prepara il cammino è lì che prepariamo il cammino la strada in Italia ascoltiamo attentamente qual è il ruolo della chiesa sta dicendo che lino fino risplendente risplendente in spagnolo risplendente in spagnolo lino fino risplendente e puro fu dato a lei per indossare e quando vide la chiesa entrare potevo vedere lei da lontano per via della vesta che indossava era lontano ma riuscivo a vederla perché? perché la vesta è brillante risplendente ascoltate ora in altre parole mentre lì mi ha mostrato questa visione il Signore sta dicendo che ora la chiesa di Cristo in Europa la chiesa di Dio in Italia ha bisogno di indossare quella vesta ora ora e dice che quando la chiesa indossa questa vesta è risplendente è una cosa ovvia quando indossi quella vesta è così ovvio tutti possono vedere guardate la chiesa indossa quella vesta avete sentito quello che ho detto? sta dicendo che a quest'ora la chiesa ha bisogno di indossare quella vesta e quando lo indossi ora sarà risplendente tutti possono vedere da lontano come in Kenya ora in Kenya ora tutti possono vedere e in Italia tutti riusciranno a vedere perché perché quando l'HIV si da quando l'HIV la AIDS quando l'HIV AIDS viene guarito in the holiness revival nel risveglio della santità allora tranne tutte le altre religioni tutte possono vedere che guardate il Dio vivente avete compreso? si sta dicendo che a quest'ora più tenebre il mondo l'oscurità che c'è nel mondo più risplendente è la chiesa leggiamo insieme questa scrittura libro di Giovanni siamo insieme qualcuno mi sta seguendo ora andiamo nel libro di Matteo capitolo 5 prima voglio riepilogarlo in Matteo capitolo 5 13-16 Matteo capitolo 5 13-16 voi siete il sale del mondo ma se continuiamo a leggere dice voi siete la luce del mondo tenebre quindi andiamo nel libro di Giovanni capitolo 9 da versetto 1 a 8 alleluia Giovanni capitolo 9 vi ho detto io sono molto onorato e privilegiato di venire da voi per via della gravità del messaggio alleluia alleluia all'uno trenta tredici trenta chiudiamo l'una e mezza ci fermiamo l'una e mezza ci fermiamo l'una e mezza e poi andiamo a pranzo e poi ritorniamo va bene me io sono pronto sono pronto anche a continuare dovete solo sfruttarmi io sono il vostro servo Giovanni capitolo 9 da uno no 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 Matthew Matthew 9 1-8 scusatemi Matteo capitolo 9 scusate Matteo 9 scusate 1-8 Matteo 9 scusate what does he say this is what he says Matthew 9 Matteo capitolo 9 1-8 uno auto Gesù è entrato in una barca and crossed over passò all'altra and came to his town riva e venne nella sua città e ecco gli portarono un paralitico lying on a mat disteso sopra un letto and he says Gesù when Jesus saw their faith Gesù veduta la loro fede he said to the paralitico take heart my son coraggio figliolo your sins are forgiven i tuoi peccati sono perdonati verse 3 versetto 3 at this some of the teachers of the law say to themselves ed ecco alcuni scribi pensarono dentro di sé this fellow is blaspheming costui bestemmia verse 4 knowing their thoughts ma Gesù conoscendo i loro pensieri Gesù said Gesù dice why do you entertain evil thoughts in your hearts perché pensate cose malvagie nei vostri cuori verse 5 which is easier infatti cos'è più facile to say your sins are forgiven i tuoi peccati sono perdonati or to say get up and walk o dire arzati e cammina verse 6 versetto 6 ma affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità sulla terra per perdonare i peccati e allora disse al paralitico get up alzati prendi il tuo letto e vai a casa tua alleluia alleluia and then verse 7 versetto 7 and the man got up e si alzò and went home e si andò a casa verse 8 versetto 8 when the crowd saw this visto ciò la folla they were filled with awe fu presa da timore and they praised God e glorificò Dio who had given such authority che aveva dato tale autorità to men hallelujah hallelujah as I was coming here mentre stavo venendo qui yesterday ieri the Lord showed me healing il signore ma mostrato guarigioni che succederà qui hallelujah hallelujah I don't know who is going to heal io non so chi il signore guarirà but I saw healing ma io ho visto guarigioni take place here che è successo proprio qui and then this past night quindi anche se la notte scorsa I saw someone whose eyes are going to be healed ho visto qualcuno che i suoi occhi saranno guariti and it looks like you are not young e sembra che non sei giovane you are not young non sei giovane is not a young person non è una persona giovane and I saw your hair e io ho visto i tuoi capelli it seems your hair has gray hair some mixed with white hair sembra che tu hai capelli grigia misculati con bianco but remember when the Lord says so there is no limit ma ricordate quando il signore dice una cosa del genere non c'è alcune limite he may show me one person lui può mostrare a me una persona with white hair within his hair con capelli bianchi una persona maturo but when he shows me those eyes open ma quando lui mi ha mostrato quegli occhi che li apri there is no limit non c'è alcun limite not just that person non soltanto per quella persona per via dell'ora e la gloria perché ora Gesù sta tornando e dobbiamo preparare ogni cosa voglio ripetere questo quando stavo arrivando ieri il signore mi ha mostrato grandi guarigioni che accadrà qui alleluia alleluia ma la notte scorsa questa notte scorsa io penso che è un uomo perché penso che ha capelli un po' lunghi e capelli bianchi mixed there capelli miscolati e il signore ha guarito i tuoi occhi può essere che non ti conosco ma il signore ti conosce e poi ho sentito questa notte passata ho visto e ho udito qualcuno che aveva tumore nello stomaco e quel tumore si è scomparso alleluia quello io ho visto ma ascoltate che cosa sta dicendo il signore in questa scrittura il signore sta dicendo e hanno glorificato Dio che aveva dato agli uomini così tale autorità e se andiamo nel libro di Giovanni dopo si sente Gesù dire io sono la luce del mondo e qui si può vedere che le opere di Gesù far sì che le altre persone le altre persone le altre persone lodano Dio il nostro Dio dice in Kenya quando i dottori vengono con due roseconto dei medici quando i dottori c'è l'eco non si riesce a sentire bene non riusciamo a sentire sì ho pensato così potresti venire a prendere l'eco come posso ho un'eco in questo ecco 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 potete abbassare l'eco alleluia 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 va bene così ascoltate ora ascoltate ora ascoltate ora quando i dottori vengono con due analisi due quando i dottori vengono con due risultati dei medici una dice HIV positivo e l'altro risultato dice ora negativo e poi vanno in varie scuole università di medicina per esaminare il sangue e vedono che il sangue è cambiato dice che fuori da tutte le altre religioni tutti possono vedere che il Dio vivente è lì alleluia comprende quello che dico sta dicendo questo è l'ora per la chiesa questo ora è per la chiesa quando il pozzo d'acqua viene guarito e geologici vengono da noi e dicono non è possibile cambiare l'acqua che sono sotto il pozzo è troppo impossibile e dicono questo deve essere Dio sta dicendo questo è quella luce che abbiamo bisogno di risplendere quello è quella luce che la chiesa ha bisogno di risplendere alleluia quello è la chiesa che la chiesa ha bisogno di risplendere alleluia quindi ascoltate ora sta dicendo che questo è l'ora per la giustizia nella chiesa perché solo la giustizia ha la chiave per il risveglio solo la santità ha la chiave per il risveglio e sta dicendo che quando noi scegliamo di ravvederci e abbandonare i peccati allora il Signore porterà risveglio e quando Egli porterà risveglio e allora la luce di Cristo la luce di Cristo risplenderà al mondo tenebroso è per questo motivo che sono venuto va bene sta dicendo sta dicendo il motivo nel quale lui mi ha mandato in Italia ora è per annunciare a questa nazione che io ho visto il ritorno del Messia e io ho visto come la chiesa entrò nel pello nonostante tutto punto numero tre anche di annunciare che questo è l'ora dove il Signore sta visitando le nazioni alleluia e i pastori avete la chiave per aprire così il Signore possa entrare e che Egli possa risvegliare la chiesa e sta dicendo che quando tu apri quella porta tu cambiate la vostra predicazione si comincerete a predicare ravvedetevi radevetevi e abbandonate i peccati dice e allora comincerete a predicare santità santità per preparare le nazioni alleluia quindi sta dicendo c'è un risveglio ora che sta visitando la chiesa un risveglio storico io so che alcuni di voi siete stati in Kenya è proprio fuori dal controllo perché ci sono miliardi delle persone che corrono a Gesù e quando corrono a Gesù si ravvedano vengono battezzati e vengono mostrato a loro la strada maestra di santità la strada maestra di santità che è un momento di tesoro per la chiesa sta dicendo che ora quando guardiamo la vesta che la chiesa in Italia sta indossando ci sono delle macchie ci sono delle macchie uno delle macchie si chiama la teologia moderna una libera teoria una teologia liberale quella teologia che dice che il pastore è così educato quindi il pastore ha tolleranza a peccati io sono stato mandato dal Signore quel Dio antico Dio dell'antichità e quel Dio di antichità è santo quel Dio non ha modernismo non ha modernismo nel suo lui non ha post-modernismo in lui dice siate santi perché io sono santo questo questo è il Dio che mi ha mandato qui e io so che sto parlando a tante nazioni live sulla radio ma è così potente per sentire il Signore che dice all'Italia che ritorniamo all'Evangelo vecchio della croce e del sangue quell'Evangelo antico quell'Evangelo antico modern Italia Italia è una città moderna modernizzata proprio modernizzata ma ascoltate c'è una nuova istruzione qui io ho visto la chiesa entrare e il Signore mi ha mandato in Italia per dire alla chiesa ritorniamo al Dio di antichità di Israele quel Dio di antichità ritorniamo alla croce antico di Gesù quel sangue antico di Gesù no modernismo no no niente modernismo no 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 tolleranza al peccato io ho riportato l'Evangelo della croce io ho portato vi ho riportato l'Evangelo originale del sangue avete sentito dire che i pozi sono stati guariti mi avete sentito parlare anche del virus HIV guarito sangue cambiato quello è la potenza del sangue di Gesù alleluia alleluia questo è ciò che significa sta dicendo che dobbiamo pulire la chiesa il modernismo ieri stavo parlando con uno dei vostri giornalisti che mi stava facendo un'intervista e ho detto a lui io sono venuto con una scopa per pulire la casa alleluia alleluia perché il Signore vuole portare il risveglio il Signore vuole visitare questa nazione e la Chiesa ha una responsabilità e la Chiesa ha una responsabilità voglio dire a voi un segreto ora questo è l'ora per la Chiesa ora ora adesso proprio adesso e nel tutto il mondo questa è l'ora per la Chiesa questa è l'ora per la Chiesa questo è l'ora per la Chiesa perché perché tutto il mondo sta cercando soluzione in economia in Iraq in Siria tutto il mondo sta cercando soluzione tu puoi dire è come tutto il mondo sta piangendo se guardiamo se guardiamo le bombe in Iraq Libia guardiamo Libia Somalia Siria Siria dappertutto tutto il mondo è come stanno cercando un Salvatore ma quel Salvatore noi lo conosciamo è il suo nome è Gesù alleluia alleluia questa ora appartiene alla Chiesa è l'ora per la Chiesa questa ora appartiene alla Chiesa è per questo che la Chiesa ha un tesoro la chiave in Kenya è totalmente diverso ora è diverso ora addirittura i dottori mandano i loro pazienti alla crociata di guarigione addirittura i dottori vengono da me e dicono io voglio nascere di nuovo e servire quel Gesù io voglio essere nato di nuovo e servire quel Gesù ma ora il Signore mi ha mandato in Italia Italia sarà la stessa se possiamo afferrare questa istruzione e l'istruzione dice cominciamo un risveglio di ravvedimento dentro la Chiesa cominciamo un risveglio di ravvedimento nella Chiesa guardiamo ora uno delle macchie grande sulla veste si chiama omosessualità omosessualità nella Chiesa dobbiamo pulirlo via si omosessualità nella Chiesa deve essere pulito hallelujah it must be cleaned out deve essere pulito via l'omosessualità nella Chiesa lesbianismo nella Chiesa modernismo nella Chiesa deve essere pulito via e per questo motivo che io sono venuto così possiamo ritornare alla salvezza originale quella salvezza della croce quella salvezza del sangue che ha potenza per liberare quindi sta dicendo che 15 gennaio quando vide la Chiesa entrare ascoltate ora gennaio 15 2017 quando vide la Chiesa entrare la cosa più importante che vide nella visione era la veste e dice a quest'ora quando la Chiesa indossa quella vesta tutti in Italia vedranno e diranno sì quello è la vesta del Signore perché deve essere una vesta risplendente e il Signore sta dicendo che nonostante l'ambiente che si trova in Europa alcuni di noi magari siamo stati perseguitati può essere perché voi volete stare con la giustizia ma ricordate che questa vesta che io vide che ha permesso la Chiesa ad entrare quella è la recompensa quella è la recompensa per la sofferenza che hai attraversato in questo mondo quindi non importa quale sofferenza state attraversando ma non dovete macchiare quella vesta per favore perché quello è il simbolo della Chiesa che ha vinto sulla morte sta dicendo che è il simbolo di quella che è il simbolo di quella Chiesa che entra in eternità con Dio che ha vinto sulla morte quindi prepariamo quella festa quella festa quando vede loro entrare tutti loro avevano sconfitto la morte non capito e ora dobbiamo preparare questa festa e per questo motivo che io sono tempo davvero bello nella Chiesa è per questo che il mio cuore è pieno di gioia perché io so che se voi dovete afferrare a questo messaggio e preparare Italia must enter allora Italia entrerà alleluia ascoltate ora il Signore sta dicendo questo sta dicendo che la Chiesa deve ritornare alla base il fondamento della salvezza così possiamo preparare la nazione ascoltate il popolo amato ascoltate ora la Bibbia promette quest'ora quindi la mia venuta qui non è una cosa coincidenza non è per caso il Signore ha utilizzato il Signore ha utilizzato un modo potente per invitarmi qui il mio venire qui non è per caso la Bibbia promette quest'ora ascoltate ora se andiamo nel libro di Amos capitolo 9 versetto 11 e 12 va bene così Amos capitolo 9 11 e 12 alleluia 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 very powerful molto potente please just bear with me a little bit I will send you for lunch per favore sopportatemi un attimo che andremo a parlanzo insieme just a little bit more solo un pochettino alleluia alleluia Amos capitolo 9 11 e 12 grazie Amos 9 versicolo 11 al 12 il 12 right? Spagnolo por favor Amos capitolo 9 dal 11 e 12 he says let me find it first ok he says in that day I will restore David's fallen tent quel giorno io rialzerò la capanna di Davide che è caduta I will repair his broken places ne riparerò i danni and restore his ruins e rialzerò le rovine and build it as it used to be e la ricostruirò come era ai giorni antichi and he goes on and on e poi continua now listen to me now ascoltate ora he's talking about the restoration of Israel sta parlando rigoda la restaurazione di Israele but look at this now ma guardate ora because he grafted us he grafted us ma perché lui ci ha innestati nella promessa di Abraham nella promessa di Abraham so now we enter the commonwealth of Israel quindi ora facciamo parte della eredità di Israele come you see the European Union vedete l'Unione di Europa I'm talking about the commonwealth of Israel like that also stiamo parlando della stessa eredità la comunità di Israele hallelujah because of the promise he gave Abraham and then he took the gentile church and grafted so now he put us into the commonwealth of Israel now look at this now and then this scripture now applies to the church also he said in that day I will come back io ritornerò io ritornerò and restore David's fallen tent e restaurerò la capanna di Davide che è caduta look at this now guardate ora in that day in that day a quel giorno proprio a quel giorno meaning questo vuol dire God had set apart set apart Dio aveva messo da parte he separated he set apart un appointed time un tempo dedicato un appointed time un tempo stabilito he put apart lui ha messo da parte e dice when the fullness of time arrives when the fullness of time arrives for the appointed season quando arriverà la pienezza del tempo per la stagione instabilita he says I will come back io ritornerò and restore e restaurerò David's fallen tent la capanna di Davide che è caduta we know noi sappiamo that you are the holy tent of the holy spirit e voi siete il tempio dello spirito santo and yet now if you look at the tent of the holy spirit in italy now you find the women dressed tight to show the anatomia codicia sexual in spagnolo codicia sexual sexual lust in the church and senior has seen homosexuality he has seen the short dresses he saw le gonne piccole le mini gonne the false false apostolate false apostolate he saw i falsi apostoli egli ha visto the false profet he saw i falsi profeti egli ha visto e dice e dice i have put aside a certain season io ho messo da parte una stagione una stagione stabilita and when that appointed season arrives e quando arriverà quel giorno quella stagione stabilita he says i will restore all things io restaurerà ogni cosa he says i will rebuild rebuild io ripostruirò the fallen fallen tent quella capanna che era caduta meaning questo vuol dire c'è apostasia c'è apostasia c'è stata una caduta e per questo che ho detto il mio venire qui non è per caso il signore aveva messo da parte questa stagione per il ravidimento il ravidimento per restaurare tutte le cose e dice restaurare a cosa ascoltatemi il popolo di questa nazione dell'italia amata voglio dirvi qualcosa italy is known in the whole world italy è conosciuto in tutte le parti del mondo even now the Mosul dam in Iraq the dam dam ora i pozi che hanno scavato in Iran Mosul dam dam i pozi che hanno scavato in Iran sono gli ingegneri italiani solamente ingegneri soltanto ingegneri italiani sono capace di ricostruire e restaurare quello in Iran quel pozzo in Iraq io seguo attentamente ogni cosa the building of roads e costruire delle strade in Africa the italiani sono ingegneri italiani sono migliori nel costruire della strada ora ascoltate if a building or a road let's say a bridge is broken diciamo magari se una ponte viene distrutto and you call the italiani e tu chiami gli ingegneri italiani e di a loro io vorrei che tu ricostruisci questa ponte che è caduta cosa vi chiederà gli ingegneri italiani qual è la prima domanda che vi chiederanno la prima domanda che vi chiederanno è questo verrà a esaminare quell'edificio o the bridge oppure quel ponte come è distrutto o che permesso della negligence perché è stato abbandonato è stato abusato è stato malutilizzato ho distrutto la prima domanda che un ingegnere italiano ti chiederà ti chiederà mi puoi mostrare l'architettura l'originale immagine di questa ponte ti chiederà ti chiederà ti chiederà ti chiederà Avete compreso? Tu devi comprendere e conoscere l'originale. Quindi quando dice In that day At that appointed time I will come And restore The fallen hearts In the church He's saying I will put it back To the original printing The original creation I will put it back To the garden of Eden Io lo metterò all'originale Io lo metterò come era nel giardino di Eden I will put it back Io lo metterò To the book of Genesis chapter 1 26 al 27 Al libro di Genesis capitolo 1 26 al 27 Genesis chapter 1 Genesis capitolo 1 Genesis chapter 1 26 al 27 Genesis capitolo 1 26 al 27 He says Dice Ah This is what he says Questo è ciò che dice He says Genesis 1 26 al 27 Then God said E poi Dio dice Let us make man In our image And likeness Facciamo l'uomo Alla nostra immagine Conforme alla nostra sommelianza And let him have dominion Let him rule over the fish of the sea Che abbiano dominio Sul pesce del mare The birds in the air Sulle uccele del cielo And over all the livestock Sul bestiame Can I I need to finish this Ho bisogno di concludere questo The original blueprint Quel piano originale The original design Design Il disegno Originale Of God Di Dio Was where Era lì Adam and Eve Dove Adamo e Eva They have not yet fallen And they are walking With God And there is no death There is no disobedience There is no ungodliness There is no sin There is no muerte There is no death Adam is walking with God Adamo stava camminando con Dio In the cool of the day Nel fare del giorno And he is saying That is a powerful Original design Quello è il disegno Potente originale There is no sin Non c'era alcun peccato There is no disobedience Non c'era disobbedienza There is only righteousness Era solo la giustizia Holiness Santità Right standing with God Stare giusto agli occhi di Dio In the beginning Al principio That is where there was no sin E lì che non c'era nessun peccato So he is saying Quindi sta dicendo That that is the original plan Quello è il piano originale And to prove That that was right E per mostrare a voi Che ciò era giusto In Genesis 5 21 on Genesis 5 21 on You see Enoch Vediamo Enoch Walking with God Camminare con Dio And did not die E non morì Follow me Follow me Follow me Follow me on this now Seguitemi ora So Quindi The Lord has come To ask me To tell you Church of Christ In Italy Right now Stanno ritornando a Gesù Europe Europe How about Europe E riguardo a Europa When will Europe return Quando ritornerà in Europa If you read Isaiah chapter 1 verse 3 Se leggiamo Isaiah capitolo 1 versetto 3 He says Dice Even the cow The bovina Bovina Che addirittura La bovina The cow Addirittura La mucca It knows It's owner's manger Conosce Il suo proprietario La mangiatoia Del suo proprietario Conosce Casa De maestro He knows His owner's home Che conosce La casa Del suo proprietario The cow Addirittura La mucca Addirittura Il bovino Il bovino Conosce Che quando sta mangiando erba lì E arriva il tempo Che arriva le tenebre Sa quando è perso Il bovino La mucca La mucca Quando la mucca è perduta Saprà Saprà E dirà Se stesso Penso Che ho perso La strada Mi sono perso Io ho bisogno Di ritornare Al mio maestro Guardatemi Dice Dice Che addirittura Anche l'asino Addirittura L'asino Che sa dove andare a mangiare fogliame Nel mangiatoio del suo maestro Sa Che quando vado in quella casa La casa del mio maestro Io troverò cibo Per mangiare Io troverò ombra Dall'inverno Benefit and care Benefit and good care Io posso essere Posso trovare benefici E essere preso cura bene E per via di questo Il donkey Tenses A sense of obligation E l'asino Ricorda lo suo senso di obbligo Per ritornare al suo maestro Why is it that Europe Does not know Where to return to Perché l'Europa Non sa da dove ritornare Why is it that Europe Perché l'Europa Does not know His owner His owner His creator Non conosce il suo proprietario Non conosce il suo creatore When we return To the father's house Quando ritorniamo Alla casa del padre He will take care of us Egli si prenderà cura di noi He will protect us Egli ci proteggerà Europa In all your Addirittura La mucca Il bovino All your car In tutte le vostre macchine Il vostro satellite Navigatore I vostri navigatori La mucca Non ha un navigatore Ma sa come ritornare a casa Ma non sapete come ritornare a casa Ritorniamo al padre Addirittura l'asino L'asino Quando lo nutri bene Si sente obbligato a ritornare da te La mucca La mucca non ha lo spirito santo Ma la chiesa ha lo spirito santo Che la chiesa possa sapere come ritornare a casa Senza lo spirito santo Senza lo spirito santo La mucca sa come ritornare a casa Noi abbiamo lo spirito santo Veramente abbiamo bisogno di ritornare a casa Alleluia Tutti noi possiamo stare in piedi Alleluia Ritorniamo E per questo motivo che sono venuto Io sono venuto per la chiesa in Europa Per chiamare la chiesa in Europa in Italia Per chiamare la chiesa a Taranto A ritornare al suo proprietario A ritornare al Padre A ritornare al Signore Quando noi arriveremo lì Egli si prenderà cura di noi Egli prenderà cura molto bene Egli ci proteggerà Egli ci guarirà Egli ci risveglierà Egli ci libererà Ritorniamo a casa L'ora è giunto Che noi possiamo realizzare Che siamo persi Che nel Regno di Dio Non ci sarà alcun peccato Non ci sarà alcun peccato Quindi quella vita Peccaminosa Che viviamo al giorno di oggi È davvero pericoloso Popolo amato Nel Regno glorioso Che vide la chiesa entrare Non ci sarà cristiani moderni Ma ci sarà cristiani santi Cristiani giusti Con un cuore ravveduto Io so che vivete in questa città amato Uno dei paesi potenti nel mondo Avete energia nucleare In Africa A volte non c'è elettricità A volte l'elettricità Si spegne Quando predichiamo Ma qui Avete energia illimitata In Africa A volte quando uno ha tumore Devi andare fino in India Se hai del denaro Così i dottori lì in India Possono lavorare sul tuo corpo Ma in questo paese Avete i migliori dottori qui Avete degli specialisti qui In Africa In Africa Per via di quella situazione Hanno imparato Di dipendere su Jehovah Hanno imparato Di dipendere su Gesù Hanno imparato Di ascoltare Quando sentono Ravvedetevi e ritornate a me Velocemente si ravvedono E ritornano a Dio Per via dei benefici I benefici del Signore Ma oggi Io sto chiedendo agli italiani Per favore Focalizziamo sui benefici Eterno del Signore Coloro che vogliono ricevere il Signore E ravvedersi Arsate le vostre mani Mentre sono qua Prima che vado via Ricordiamoci Io posso vedere Che tutte le mani Sono state alzate Questo è così potente Quindi alziamo le nostre mani Arto Più alto Ritorniamo a Gesù Perché questa è la stagione Il tempo stabilito Per restaurare ogni cosa Potente Gesù 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 Signor Gesù Signor Gesù Signor Gesù I repent today Mi revido oggi And turn away from sin E abandono i peccati And ask you Jesus E chiedo a te Gesù To establish holiness In my life To establish holiness In my life To establish holiness In my life And bring revival In my ministry E portare risveglio Nel mio ministerio In the mighty name Of Jesus Nel nome potente Di Gesù Amen Amen Padre in the mighty name Of Padre nel nome di Gesù I ask you to establish Your word Chiedo che tu possa Stabilire la tua parola And holiness E la tua santità In the lives Of these precious people Dalla vita Di questo popolo prezioso And bring revival Into Italy E portare risveglio In Italia And let revival Consume the hearts Of the children In this home E che il risveglio Possa consumare Il cuore Di tutti gli italiani They are sons And daughters I loro figli Le loro figlie That they may prepare The way Così possono preparare La strada The holy way Una strada santa For the glorious Coming of the Messiah Al ritorno glorioso Del Messia Lord I ask you To bless these people Signore chiedo a te Di benedire questo popolo With revival Con risveglio In the mighty name Of Jesus Nel nome potente Di Gesù Amen Amen The Lord bless you Il Signore mi benedica We are coming back Ci vediamo dopo At 3.30 Alle 15.30 3.30 Alle 15.30 I will continue With the conversation Of the Lord Continuerò La conversazione Del Signore Thank you so much The Lord bless you Il Signore mi benedica Make sure you bring Somebody else In the evening Catch somebody And bring here Because only two days Then I leave And those of you That need healing The healing anointing Of the Lord Is here The healing anointing Has been announced Healing has been Annunciato La guarigione È stato annunciato È stato annunciato May the Lord bless you Shalom 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 Alleluia 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.